Ancora una vittima a causa di un incidente stradale accaduto poco prima delle 17.30 di oggi lungo l'autostrada A4 all'altezza di Porto Gruaro in direzione Trieste. Dalle prime informazioni, sul posto stanno operando ancora la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Un'auto, una berlina della BMW di colore bianco, ha tamponato violentemente un mezzo pesante che stava trasportando tronchi di legname. Entrambi procedevano sulla corsia di marcia dove c'erano già dei rallentamenti. A seguito dello schianto, il tratto tra Sanstino di Livenza e Porto Gruaro è stato chiuso in direzione Trieste. Chi proviene da Venezia quindi esce a Sanstino, chiuso anche lo svincolo per chi è diretto a Trieste. Inevitabili le code tra Cessalto e il nord di Porto Gruaro, anche perché un secondo incidente è successo attorno alle ore 18 tra Sanstino e Cessalto in direzione Venezia, quindi nella direzione opposta a quella del primo incidente mortale avvenuto mezz'ora prima. Quella di oggi è l'ennesima vittima lungo il tratto maledetto della A4. Appena qualche giorno fa era stato celebrato a Riccione il funerale delle sette vittime dello schianto avvenuto lo scorso 7 ottobre. Dall'inizio del 2022, lungo questo tratto che attende ancora il completamento della terza corsia, si sono già contati 17 morti.